Una raccolta fondi per la ricostruzione delle aree del parco archeologico distrutte dai vandali nella notte fra domenica e lunedì. E' l'idea che il circolo locale di Lega Ambiente lancerà nei prossimi giorni per coinvolgere la cittadinanza nell'opera di riqualificazione dello spazio situato in via Stadio. Sul posto questa mattina il presidente del circolo locale Occhi Verdi, Carla Del Mese, che ha fatto la conta dei danni e pianificato le attività future da porre in essere. Abbiamo subito il peggiore degli atti vandalici che questo posto ricordi. I danni che sono stati perpetrati ammontano a circa 10.000 euro, soprattutto perché sono danni soprattutto economici, ma parliamo anche dei danni morali al lavoro che noi abbiamo fatto e facciamo da 20 anni a questa parte. Per questo dobbiamo ringraziare tutta la comunità di Ponte Cagnano, dalle forze politiche ai cittadini, che in forma privata o attraverso i nostri profili social hanno fatto sentire la loro vicinanza. Vuol dire che noi stiamo lavorando nel giusto senso e i cittadini riconoscono la validità del nostro lavoro. Abbiamo avuto un incontro col sindaco perché anche le istituzioni comunali di Ponte Cagnano devono supportarci, l'hanno fatto già attraverso dei comunicati stampa. Adesso servono azioni concrete. È andata che stiamo pianificando insieme anche all'assessore Spina una rivitalizzazione di questo posto che sarà rappresentata, quindi si manifesterà sul lungo periodo. Quindi noi adesso stiamo programmando e stiamo valutando come rimetterci in piedi con il sostegno delle forze politiche, delle istituzioni comunali, ma innanzitutto dei cittadini. Assolutamente. Già con la Green Station, la stazione, siamo riusciti a mettere in piedi una realtà composita grazie proprio al crowdfunding. Lo stesso faremo anche per il parco ecoarcheologico perché chiaramente chiederemo ai cittadini di contribuire anche concretamente. Quindi sia con il sostegno morale che già ci hanno fatto per venire, ma anche con dei contributi. In modo tale che si capisca qual è l'importanza di questo luogo che è il simbolo di una rigenerazione urbana, merito esclusivo della forza volontaria del Circo Locchi Verdi. Stiamo valutando entrambe le strade. Chiaramente un sistema capillare di videosorveglianza è necessario ed urgente. Abbiamo già messo in sicurezza i luoghi interni al chiuso del nostro parco, adesso che insistono sull'area parco. Adesso è necessario tutelare e presidiare il luogo dal punto di vista esterno, visto lo scempio che è stato attuato in questi giorni, ma che sicuramente, voglio ribadire, non ci ferma e non ostacola assolutamente la nostra mission ambientalista e sul parco archeologico e sul territorio di Ponte Cagnano-Faiano.